Ciao a tutti dreamers, miei amatissimi sognatori, io sono Francesca e bentornati sul canale e bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me! Oggi siamo tornati qui su Adopt Me per parlare del nuovissimo aggiornamento di Pasqua, l'aggiornamento che c'è stato proprio ieri. E oggi quindi andremo ad analizzare un po' tutte le cose, a vedere dove si trovano tutte le uova e così via, dato che soprattutto ieri in live non è che ce lo siamo spulciato davvero super super bene. Se quindi volete sapere dove si trovano tutte le uova, quanto vale ogni uovo, cosa fare per avere i punti e così via, mi raccomando, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale, tappando la caparella, Instagram e TikTok saranno giù in descrizione. Come giù in descrizione troverete anche il sito delle nostre magliette, il merch Never Stop Dreaming, non so perché sto facendo così se la maglietta non ce l'ho, e anche Insta Gaming, come al solito, i Robux in sconto. Allora, oggi ci connettiamo per il 563 giorno, prendiamo i nostri 100 dollari, ci dovrebbe essere anche una fan in casa che mi spingeva perché sono salita qui, infatti, eccola lì, un attimo solo e la salutiamo. Quindi possiamo prendere la nostra Human Bubble e siamo molto vicini a prendere il Da Vinci Propeller perché siamo a 156 stelline. Allora usciamo, close, vediamo la fan come si chiama, con noi c'è Petu Petu, allora la fan dov'è? Abbiamo Nicola, Nicola 2134JS, quindi ciao! A livello di missioni abbiamo già ben due missioncine, quindi io direi portiamocelo il nostro Petu Petu a fare queste missioni. Come vedete, ok, non credo che sia appena iniziata perché mancano due minuti, quindi prima di iniziare la Egg Hunt facciamo fare le nostre missioncine al Petu Petu in maniera super extra mega. Prendiamo il veicolo nuovo, l'ovetto che cammina, oddio, oddio, ok. Ok, ci siamo sbloccati, ci siamo sbloccati, è velocissimo comunque questo veicolo, un po' strano, questo sì, però ci siamo imbloccati di nuovo. Prendiamo il nostro Petu Petu e andiamo. Che stiamo lavorando per farlo Neon, perché nella live di ieri molti molti di voi avete deciso, mi ho fatto un sondaggino e davvero in tanti di voi mi avete detto, Franci, il Petu Petu sa da fare Neon e noi quindi lo faremo Neon. Per quanto riguarda la prossima live, credo che la prossima live sarà sabato prossimo, non questo sabato perché la live appunto è stata ieri, quindi sarà sabato prossimo. Noi faremo una live a settimana, qui sul canale, quindi. Allora, il nostro Petu Petu, come vedete qui già ci sono ben due ovetti, ma per il momento, ma in realtà ce li possiamo anche prendere volendo, perché tanto a breve si resetta, quindi vedremo dove si trovano per bere tutte le cose. Si resetta, vediamo bene quanto dura e così via ogni cosa, manca un minuto quindi, allora andiamo al centro mentre aspettiamo e vediamo com'è la situation. In realtà io direi compriamoci anche un nuovetto, così mentre facciamo le cose, anche no, in realtà ci serve. Allora, il server in questione sembra un server davvero ricco, perché abbiamo uova, fenici neon, abbiamo davvero tante tante cose. Un Petu Petu Petu, no, Pinopanino, abbiamo un Pinopanino, un cangurino che sta dormendo praticamente così, ma va bene. Un Baby Shark tuttoro tuttoro, Baby Shark tuttoro, Baby Shark tuttoro, Baby Shark tuttoro, Baby Shark tuttoro, Baby Shark. Mami Shark tuttoro tuttoro, Mami Shark. Allora, in realtà per fare queste cose, l'ideale sarebbe avere un pet fly, è molto più facile, però se non avete il pet fly, ok, la caccia è appena iniziata e il nostro Petu Petu vuole fare cose, ma in realtà prendiamo questo, prendiamo Jack. Allora, ogni caccia dura 10 minuti, quindi abbiamo 10 minuti per trovare 30 uova, quindi andiamo su fly. Primo uovo, la mia tecnica è iniziare dal cerchio esterno prima, quindi qui abbiamo un uovo, qui ne abbiamo un altro, qui eccolo lì, però io tendo a mancarli, ma va bene. Qui dentro ce n'è un altro, e quindi siamo al terzo uovo, quarto uovo, eccolo qui, poi qui c'è il quinto, ok, non mi sembra che sul tetto qui no, quindi quinto, andiamo di qua, andiamo di qui, sesto, eccolo lì. Poi andiamo al centro, sesto, settimo, qui, ottavo, qui laterale, ok, poi nono, lo abbiamo qui vicino al farm shop, poi, poi, ah eccolo questo, me lo sono mancato. E siamo a 10, mancano 20 uova. Quindi continuiamo a viaggiare, uno è lì su, quindi abbiamo il nostro ventunesimo uovo. Io preferisco sempre fare il giro esterno prima, e poi fare il giro con quello più interno. Allora, qui nella zona del campeggio ce ne sono tre, ne abbiamo uno qui sopra, ed eccolo qui. Uno è sul campeggio, proprio sul fuoco, mentre un altro è qui nella tenda, e quindi ce ne mancano 16. Continuando, 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 qui c'è... Ecco questo, siamo a metà perché abbiamo preso esattamente 15 uova. Scendiamo un po', scendiamo un po', scendiamo un po'. Qui ce n'è un altro, quindi siamo a 14, 15, cioè voglio dire 13. Mancano 13 uova, adesso ne mancano 12. Un attimo, un attimo, un attimo. Ah, qui ci dovrebbe essere ok. Adesso ne mancano 9, adesso ce ne mancano 10. Continuando qui nella zona del ponte, qui ce n'è uno, e sotto ci siamo incastrati, e sotto qui ce n'è un'altra. Quindi ci mancano 8 uova. Qui, ok, 7. E 6. E poi nella zona qui della scuola e dei regali non ce ne sono altre. Qui c'è un altro, e siamo a 5. Poi, continuando, 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 soldi. Qui, se non sbaglio, ce ne dovrebbe essere uno qua dietro. No, ho sbagliato posto. Quindi, ok, va bene. Pet shop. Forse era dietro al pet shop. Ok, va bene, va bene. Allora, ce ne dovrebbe essere uno qua al centro, da qualche parte, se non sbaglio. Ok, eccolo. Uno è qui. Uno è qui. E gli ultimi due sono lì in alto. Per questo vi ho consigliato di utilizzare un pet fly. In questo modo è molto più facile. Ma se non avete un pet fly, potete utilizzare le cose che escono dai regali. Allora, qui ce n'è uno. E l'ultimo è da questo lato, dove c'è il bungee jumping. E in 5 minuti, in realtà in 4 minuti, abbiamo trovato tutte e 30 le uova. Ora, ogni uovo vale 10 punti. Quindi 10 ovetti qui. E per... Vabbè, ci ha messo un poco per salire. Ma va bene. Ogni uvetto vale 10 punti. Quindi ogni run dovete fare 30 per 10. Ovvero 300 punti. Ogni 10 minuti potete ottenere 300 punti. 300 uovetti. E questo, ragazzi, purtroppo, è l'unico, unico modo per avere queste uova. Cioè, non ci sono altri modi. Oltre a comprarli, ovviamente. Cioè, se li comprate, potete avere più che abbastanza cose. Però comunque, ogni 10 minuti 300 punti va benissimo. Se consideriamo che in un'ora ci sono 60 minuti, se fate 300 per 60, ogni ora potete fare 18.000. 18.000 punti, sì. E in un'ora, in realtà, potete avere quasi tutte le cose. Perché io vi ricordo che comprando con 1250 Robux, ovvero 23.000 uova circa, io sono riuscita a prendere tutto. Quindi in un'ora e mezzo di gioco potete prendere tutto, tutto, tutto quello che fa concerne, riguarda questo aggiornamento. Non ci sono altri modi. Cioè, insomma, io credevo che se parlando con Egbert avremmo potuto avere qualche cosina. Invece no. Quindi, uffi. L'unico modo, quindi, per ottenere le uova, in realtà, quindi, ci sono ben due modi per avere le uova. O facendo la corsa, prendendo le 30 uova. Una volta imparato dove si trovano, sono facilissime da trovare. Come avete visto, in 4 minuti le abbiamo trovate tutte. Resto più vicini a qui perché c'è la musichetta che mi piace tanto. Oppure comprandole con i Robux. Se vi interessa, su Insta Gaming, appunto, giù in descrizione, trovate i Robux in sconto. Tra tutte queste cose qui, ragazzi, prendiamo di nuovo il nostro Petupetu. Riprendendo il nostro Petupetu, vi ricordo che il nostro Petupetu è vestito con il cosplay del Banni. Perché sì, queste cose, l'aggiornamento completo prevede 9 cose e 3 pet. Allora, abbiamo la macchinina che abbiamo visto prima. C'è un fantastico pogo. Uno Springlish. Proviamolo. In realtà non mi funzionavano ultimamente gli leash. Insomma, ultimamente non mi funzionavano. Quindi... Ok, adesso è andata. Ce lo portiamo così. Carino. A forma di coniglietto. Quindi siamo tutti abbinati. Lo Springlish, comunque, carino. Il mio preferito, ovviamente, è il Carrot. Plush, che raga. Yeah. Questo è o non è il plush più carino nella storia di Adopt Me? È adorabile. Poi abbiamo il passeggino, che comunque... Il poco, ok. In realtà, queste cose ieri le ho comprate, ma alla fine non le ho viste. Ok. Ci sta. Non mi sconfinferà molto il poco. Poi abbiamo lo Stroller. Dove, dove? Eccolo qui. Che in realtà è carino. Vedete? È molto carino come cosa. Lo Stroller mi piace molto. Poi ci sono gli accessori che abbiamo tutti quanti sul nostro Petupetu, tranne il cestino. Il cestino in realtà non mi sconfinferava tanto, anche se l'ho comprato. Mi sembra, non ne sono sicura. Ma non ce lo vedo bene. Cioè, mi sembra troppo caricato poi il nostro Petupetu. Come Pet, abbiamo per 300 eggs il Brown Springer e per 300 eggs il Black Springer, che comunque sono molto carini, anche se nelle versioni neon non mi sconfinfano. Sconfinfano. E poi c'è lo Sugar Glider, ovvero il Petupetu dello zucchero, ovvero il Petauro dello zucchero. Soltanto non so perché la mia mente continua a chiamarlo Petupetu. Quindi per questo si chiama Petupetu. Perché se lo chiamavo Petu, non so perché, forse perché somiglia un po' come suono a Petu, quindi alla puzzenza, Adopt Me lo censurava, non so bene perché. Quindi l'abbiamo chiamato ieri, decidendo tutti quanti insieme in live, l'abbiamo chiamato Petupetu, Petupetu. Che adesso ha bisogno di una doccia. Quindi ragazzi, voi fate più un po' sapere, sapevate dove si trovavano tutte e trenta le uova? Questo video vi è stato utile e volete più un video qui su Adopt Me? Volete il giveaway del Petupetu? Se lo volete uscirà domenica perché domani, domani ci sarà il video dove spacchetteremo insieme le nostre, le mie uova di Pasqua. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto e l'avete trovato utile, mi raccomando lasciate un bel mi piace adesso, soprattutto se volete altri video del genere. E se non l'avete ancora fatto, io vi consiglio di cliccare su questo pallino e poi su iscriviti se volete diventare dei veri dreamers! Mentre se siete già iscritti e volete vedere altri video presenti sul mio canale, vi basterà cliccare qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video. Ciao!